Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video RISOS, bentornati al secondo video della trilogia dei ristoranti sudafricani. Siamo vestiti ancora nello stesso modo, non perché non ci li abbiamo, ma perché è lo stesso giorno del video in Brasile, che se vi siete persi, recuperatelo. E oggi si vola in Mexico! Dopo essere stati in Brasile, ci siamo spostati in Centro America, facendo visita alla Paria Mexicana, in corso Sempione a Milano. L'ambiente è davvero unico, ricco di colori e con un'atmosfera tutta esotica e floreale, e le luci soffuse rendono tutto ancora più spettacolare. Allora, la location è veramente bellissima, un po' buia, però ci sta, fa atmosfera, musica che fa atmosfera da morire, anche il personale qui. Molto gentile, c'è tutto il pretesto per essere un'ottima serata. Arrivati al tavolo, ci siamo trovati direttamente i nachos, con la salsina piccante da abbinarci. Il menù è molto ricco e sostanzioso come sempre, abbiamo tra gli antivasti delle empanadas e un burrito. Poi invece si può prendere anche il cheso, il cheso fungiro che io non crederò mai. Qua in apri abbiamo la classica fajitas, noi abbiamo preso quella di follo e gamberi, e a proseguire ci sono anche una serie di tacos, noi abbiamo preso quelli di pesce. Buonissimo di manzo e si sente bene le spensie. Come se non bastasse, oltre al buon cibo e alla buona compagnia, c'è anche un'esibizione di ballerine. Ok, è arrivata l'attrice di tacos di pesce. Abbiamo una faccia spettacolare, hanno davvero una bella faccia. Come dice il caccia, sembrano dei veri e propri tacos. Io sono uno al conno, uno con il salmone e uno con i gamberi. Essendo tre, almeno ne mangiamo uno a testa. Io assaggio quello di gamberi, c'è anche il fiorellino. Fai una bella ripresa, vivo piano. Le croccia si sente. Il mio invece è il taco al salmone. Sentiamo com'è. Sicuramente buonissimo. Si sente che il salmone è comunque di qualità, bello morbido e bello saporito. Io invece provo quello al tonno, che secondo me se bisogna provare la qualità del pesce è il migliore. Perché il tonno, se non è buono, è immangiabile. Vediamo. C'è il salmone bocca, buonissimo. C'è il salmone. C'è il salmone. Ciocchi, anche il pollo è saporitissimo. E' giusto anche la sfida, di spezia e mezzo. Cioè, abbiamo volato così. Perché il salmone non dà passaggio. Per caccia. Verdura. Ok, cena finita. Abbiamo fatto il momento di prendere i dolci. Abbiamo preso un tacos della passione. Sono del mini taco, sono pieno di cioccolato bianco e maracuia. Sono molto carini. Fruttato croccante, buonissimo. Fruttato croccante, buonissimo. Fruttato croccante, buonissimo. intorno. Abbiamo felice. � becomes l'amore. Abbiamoiferia. Abbiamo realizzato. Abbiamo wealtho qualcuno stabilito. Abbiamo realizzato circa unә mikrogo. Abbiamo legato. Abbiamo realizzato la buscola. Abbiamo realizzato i nostri spettano le C achitano le c***o le sal fitnessi sono. e anche questa seconda serata è terminata è stata una serata pazzesca tra location, cibo sempre di qualità e esibizioni mica male esibizioni mica male perché già di per sé tante esibizioni in più per i compleanni c'era ogni esibizione per ogni compleanno quindi un tributo un sacco di spogliarelli sia per donne che uomini maschietti e femminucce prossimo compleanno lo faremo qui come prezzi siamo sempre sui 134 abbiamo pagato praticamente uguale rispetto al brasiliano quindi sono 40-45 euro testa il prezzo ne vale di tutta l'esperienza niente raga come sempre vi ricordiamo di seguirci su Instagram per avere qualche spoiler su Facebook su Youtube e spolliciate e al prossimo video bella raga la location pazzesca aspetta facciamo oggi giornata di radio ma ci siamo attrezzati tagge star tagge star ok sono arrivati intanto i tre tacos di pesce una faccia spettacolare che cazzo è successo? cosa è successo? non lo so allora intanto sono arrivati i tre tacos di pesce стagliare Grazie.